Salve a tutti giocatori, benvenuti in un nostro nuovo video. Chiedo un po' veniamo a questi giorni, sono un po' movimentati, già ve l'avevo annunciato ma sono giorni un po' movimentati quindi riuscire a fare video subito è un po' difficile riuscire a mantenere un attimino i tempi, i soliti tempi, i tempisti che magari portare argomenti troppo, troppo, troppo complicati al momento non è il massimo per me ma comunque cerco sempre di portare un qualcosa su cui fare una bella discussione oggi voglio parlare un po' di due cose che ho visto, cioè riguardando le carte di Ghost from the Past ho rivisto le solite ristampe di carte per il mago nero, carte per il drago bianco, occhi blu che veramente mi stanno sfiatando, non ne posso più, e un po' dell'ambito collezionistico prima di cominciare come sempre vi iscrivetevi al nostro canale, passatevi in questo video in descrizione, grazie mille allora, drago bianco, occhi blu e mago nero sono sì, due mostri, tra virgolette, simbolo di Yu-Gi-Oh, così come Yu-Gi-Oh, così come Kaiba tanti supporti per questi mazzi, sono anche molto fighi supporti molto belli, ogni tanto quando io vedo che c'è qualcosa nuovo di mago nero e drago bianco sono abbastanza contento, però anche basta nel senso, sono uscite tante carte, continuano a uscire tante carte per loro però vengono sempre ignorati un po' altri io adesso parlo un po' di Yu-Gi vecchio al momento ci tengo a dire però che ci sono anche personaggi importanti presi che devono essere presi in considerazione io al momento parlo un attimo di Yu-Gi vecchio perché è quello che mi ricordo meglio, quello che so di più è quello che comunque è più inerente con Yu-Gi e Kaiba e quindi voglio dire, voglio parlare soprattutto per questi senza però dire che ovviamente tutte le altre aree non è che facciano schifo anche loro hanno i loro personaggi di punta, i loro mostri di punta ma nel momento mi devo soffermare su questi un attimino allora, dicevo, ogni tanto parlo del finito del discorso e dicevo praticamente tanti supporti a questi due ma altri archetipi ok che con le leggende di due list esce ogni tanto qualche archetipo uscirà Mago Tsunami, sono uscite le arpie sono uscite un sacco di roba bella ora fortunatamente uscirà anche qualche roba Red Ice ma tante carte sono un po' lasciate tanti archetipi vecchi sono stati lasciati un po' così allora, fortunatamente adesso un po' viene ripreso Red Ice che non hanno la minima potenza in confronto al Dragon Nero mago bianco posso anche capirlo un pochino che loro sono i mostri di punta devono avere un power up superiore magari a totte carte a totte altre archetipi però comunque mi sembra giusto almeno dare una stessa quasi stessa importanza ad altri secondari tralasciando il Dragon Nero che non è poi neanche così tanto secondario perché comunque ci sono tantissimi tantissimi mostri ma da Yugi Mac mi sono tantissimi mostri molto figli che porco giù si potrebbero veramente fare un sacco di robe belle capisco l'andare a prendere per gli appassionati ancora Magone del Drago Bianco sia a livello collezionistico dopo ci andremo a parlare di livello collezionistico ma capisco l'appeal di nuovi mostri così però portarli un po' più spesso del solito può stancare per dirvi cosa assumi Redi Yami Makai quello che utilizzava Panic perché non potrebbe essere figo perché non potrebbero stampare dei supporti per quel deck capisco che sono carte che magari nessuno si fila però secondo me secondo me sono carte che penso la gente apprezzerebbe tanto io ho visto adesso che uscirà abbiamo visto che uscirà il box con i fratelli Paradox cavolo tutti sono molto contenti del Guardiano del Cancello non solo soltanto io non esclusivamente io ma molti sono contenti di vedere quel Guardiano del Cancello magari qualche interazione con esso ci sono molte carte anche che ne so è uscito tanto tempo fa la versione aggiornata del Mago senza voto illusionista perché non portare un nuovo supporto perché non portare i supporti di Bandit Cade ok che ci sono stati i supporti di Bandit Cade però altri poi qualche roba dei Re-Runner sarebbe figa non soltanto il Mimo perché c'aveva gli slime che sono utilizzati anche un po' da Maric e tutto quanto sarebbe figo avere una roba del genere basata anche su Arcana sulle carte del Mago Nero di Arcana fare una versione molto figa perché più o meno di Arcana ci sta il Dark Bribe si pari della Magia Oscura e il Mago Nero quello figo che sta così che è fantastico ma è una roba del genere ma pure in altri Raffael, i Guardiani i Guardiani di Raffael potrebbero essere molto fighi da avere nuovi invece di ancora di nuovo, il Mago Nero, il Drago Pianco potrebbero essere fighi i supporti di Raffael ma così come ehi oddio adesso io non mi ricordo quello che aveva quello che giocava contro Kaiba pure quelli che avevano gli archetipi armatura tipo che se le mettevano addosso e ne hanno combattuto non mi ricordo sempre dalla serie Ricalcos ma sempre riprendendola la serie Ricalcos Darts che vabbè Darts e nessuno nessuno gli fotte nulla di Darts ma è stato il cattivo più forte di Yugi nell'esistenza c'era un mazzo più figo aveva il terreno più figo aveva l'archetipo più figo sono state prese 3-4 carte il sigillo c'è uno rossi il grande Leviathan che c'è un altro nome e poi qualche altra carta sparsa Timayus, Hermos e Kryzia sono state carte che ho apprezzato tantissimo però ovviamente cosa ristampano in Ghost from the Past al momento e poi vabbè bisogna andare a vedere se metteranno 2-3 Timayus perché si gioca il mago nero ok il mago nero ancora il mago nero e niente anche dei supporti che... è migliore Die Grafer supporti per Die Grafer sarebbe troppo figo sarebbe troppo figo quello c'è una lore interspaziale sarebbe figo ma anche di Giltia Predatore Dash e Spataccino di Fuoco porco Giuda che ci stanno tot carte ma sono pochissime che magari sono uscite in Giappone nel CG oppure sono uscite adesso ma chi i soldoni non sanno di niente perché dice nessuno se le fila invece no io mi filo anche i nuovi supporti per insetto mangia uomini pure quelli di ReRex io tutti me li filo me li filo tutti e questi non sono gli unici ripeto poi ci sono anche le altre serie la GX a 5D sa ogli a te pieno e poi adesso parliamo un attimo dell'ambito collezionistico perché al momento parlo solo di Magonero e il Drago Bianco poi andremo a vedere un discorso più ampio perché ovviamente Ghost from the Past 2 ok cioè verrà figo Drago Finale Drago Bianco ok Drago Bianco è figo va bene basta ma con i rocchi di maio della cassa basta basta fate altro vi prego io che io non ho devo dire devo ammettere io che non ho mai visto tanto come gioco collezionistico io eh poi ovviamente è un gioco di carte collezionabile giustamente c'è il lato collezionistico però io non l'ho mai visto di punta nell'ambito collezionistico magari lo stanno facendo ora premendo su il boom delle carte gradate o il boom delle carte vecchie ma purtroppo Yugi ci ha ristampato praticamente tutto quindi ok che ci stanno le carte vecchie che sono introvabili però comunque io posso riprendermi una ristampa e dico vabbè se me la devo metterli per fare che nell'esposizione va bene anche quella è un po' è un discorso un po' più ampio che io andrò ad affrontare più avanti ma ogni volta metto una carta collezionistica mago nero drago bianco mago nero drago bianco mago nero drago bianco drago bianco mago nero anche basta anche basta anche basta poi ci stanno vabbè ovviamente ci stanno le altre carte però si va sempre a a riandare a prendere le solite le solite cose perché magari sono le tra virgolette più sicure da poter portare non lo so non mi trovo tanto d'accordo su questo poi magari sbaglierò io e non lo so poi sull'ambito collezionistico avrò un discorso molto più ampio perché io l'ho percorso un po' tutto quindi ho delle ho delle cosine da dire poi mi studierò meglio il discorso quando questa situazione sarà un po' finita detto questo fatemi sapere voi cosa ne pensate in realtà sono già abbastanza sicuro che non non ne potete più dimaurire il drago bianco perché me l'avete detto 30.000 volte ci sta noi come sempre ci vediamo nel prossimo video e un saluto a tutti